dalle case popolari si torna ai villoni siamo quasi arrivati alle fermate del vaporetto e venezia sempre più vicina parcheggiamo le bici sperando non ce le rubino che venezia non si può arrivare in bici ce l'abbiamo fatta per un velo a prendere il vaporetto e stava partendo siamo riusciti appena appena in tempo lo sai che adesso andiamo nella città più bella del mondo vabbè ho preso per un subito speriamo di ritrovare le bici ciao dalla manina papi hai visto siamo arrivati a venezia vale siamo in zona biennale e passando in questo c'è spuglio c'è la biglietteria cosa c'è in biennale non lo sappiamo andiamo a cercarci gelato andiamo nella venezia lato b quella che non si caga nessuno ed è la più bella hai visto questi palazzi vale no non c'è il gelato qua hai visto che bella venezia guarda lì filma bene là che ci sono tutti i panni stesi andiamo a cercarci gelato andiamo a cercarci gelato ce l'hai a due ore da casa e ogni volta che ci torni lascia senza fiato scappate sempre dalle zone turistiche andate verso la biennale l'arsenale sono stupende queste viette pronto che facciamo il ponte? il ponte! hai visto che vicolo stretto 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 attento alla testa vale giù 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 che basso qui attenzione un altro olé sembriamo dei topi delle cavie da laboratorio vale un super bagno pubblico fantastica visto che a venezia è rarissimo trovare bagni pubblici quando ce n'è uno è l'esposizione eh no no ci puoi anche andare ma no ma dai ma che figata no no puoi andare a farlo eh ma no non ci credo guarda le saponette vale non si possono toccare le saponette è un'opera d'arte utile come è stata l'esperienza di farla pipì in un'opera d'arte? allora molto angosciante perché all'interno del bagno c'è anche un'installazione video e quindi tu entri e hai un po' l'idea di essere tipo del grande fratello no? super ripreso quindi è stata un'esperienza angosciante ecco l'angoscia del bagno pubblico dai che ci troviamo sta gelateria su deve essere la via degli artisti il fruttivendolo ma ha già finito di lavorare wow hai visto? prende la frutta sul barcone ok direi che siamo finiti di colpo nella zona turistica più turistica che ci sia proprio così dal nulla abbiamo trovato il gelato abbiamo trovato anche la fila per il gelato e fila sia abbiamo troppa voglia ciao mega gelato finalmente il gelato e anche i piccioni ti è piaciuta venezia? ti è piaciuto ora dobbiamo riprendere il vaporetto per? per ritornare al video e ritornare a prendere le nostre bici adesso dobbiamo capire quale vaporetto prendere siamo arrivati al Lido andiamo a recuperare le biciclette adesso e poi dobbiamo risalire e poi e poi e poi e poi Grazie a tutti.